Nonostante tutto quello che è successo, per te forse quest'anno è meglio dell'anno scorso? Sicuramente almeno quest'anno ho l'opportunità di iniziare subito la stagione con i miei compagni. Non è un mistero che la scorsa stagione per me sia stata complicata. Tornare da infortunio è stata una riabilitazione lunga. Sono contento che adesso vada tutto bene, che sia sano, quindi non vedo l'ora di iniziare. Qual è stata la cosa più difficile che hai dovuto passare nella scorsa stagione per recuperare in pieno il tuo valore? È stato un processo continuo, ogni giorno dovevo affrontare la riabilitazione consapevole che dovevo essere concentrato, fare quello che mi dicevano i fisioterapisti, i medici che mi seguivano. Ogni giorno il mio lavoro si sarebbe visto alla fine sul ginocchio. Lavorando magari male dei giorni avrei avuto delle ripercussioni negative, mentre se avessi mantenuto la concentrazione e lavorare con serietà tutti i giorni sarei tornato sano e così è stato. I prossimi allenatori tuoi sono Pelletier e Airlanda per la Nazionale Italiana. Che cosa hanno in comune questi due allenatori o che cosa hanno di differente? Con Airlanda ho giocato diversi anni, quindi lo conosco bene. Penso che sono accomunati dal fatto che sono degli ottimi comunicatori, hanno un ottimo rapporto con la squadra. Per il resto sono molto ansioso di iniziare la stagione con Serge e poter conoscere anche di più come allenatore, ma per il momento appunto ritengo senz'altro che sono allenatori preparati sia tatticamente, sia nella gestione del gruppo, allenatori con tanta esperienza, quindi questo è solo un bene. Che ambiente si respira quest'anno, differente dalle scorse stagioni e quali possono essere gli obiettivi di questa squadra? Le sensazioni diverse sono quelle che sono sotto gli occhi di tutti. Comunque siamo confrontati con il Covid, con il pubblico che sarà presente in maniera limitata, non come eravamo abituati e dall'altro lato non ci nascondiamo, noi siamo una squadra ambiziosa a Lugano, è sempre una società ambiziosa, noi giochiamo per vincere. Poi non ogni anno si può vincere il titolo, ma comunque il nostro obiettivo è vincere ogni partita, ogni cambio, ogni tempo. Ti ringraziamo e bocca al lupo per l'inizio della stagione. Grazie, ciao.